Benvenuti alla Scuola Comunale Zizi, che accoglie bambini e bambine dai 2 ai 6 anni, in un ambiente che stimola la ricerca, la scoperta e la costruzione di situazioni nuove attraverso il gioco. Si fonda sul dialogo continuo tra adulti e bambini e tra adulti, sostiene lo sviluppo individuale, ma anche sociale nel rispetto dei percorsi di ognuno. L'Equip è composta da educatori, insegnanti e personale ausiliario che cooperano insieme alle famiglie per promuovere una scuola attenta, accogliente, fondata sui principi di coprogettazione, rispetto, autonomia. Gli ambienti interni ed esterni sono ricchi di possibilità, aperti alle ricerche dei bambini, che accedendo ai vari atelier, laboratori ed angoli sviluppano progetti di gioco e apprendimento. Sia dentro che fuori, i materiali sono naturali, destrutturati e di recupero, per sostenere il pensiero divergente e scientifico di ognuno. Gli strumenti sono ricercati e specifici.